Ritorno al passato per l'Ital Service Pesaro Calcio a 5 che dopo due gare casalinghe disputate di domenica pomeriggio torna ad aprire i cancelli del Palafiera il venerdì sera alle ore 20 e 30. Una decisione societaria che torna sui suoi passi dopo la modifica effettuata durante l'estate che proprio dal venerdì sera era stato deciso di far giocare l'Ital Service alla domenica pomeriggio. Un dietro affronte arrivato dopo alcune valutazioni fatte sulla squadra, sull'impianto e sui già numerosi impegni sportivi in programma la domenica in città. Cambio di programma che vedrà subito la luce questo venerdì 4 di novembre alle 20 e 30 con la squadra di Mister Colini che ospiterà il Real San Giuseppe a 5 punti in classifica rispetto ai 4 di Biancorossi. Sì, perché mai come in questa stagione la squadra di Pesaro aveva iniziato con tante difficoltà frutto soprattutto dei limiti imposti dalla divisione Calcio a 5 sul numero di italiani e stranieri in rosa. Dopo 5 giornate l'Ital Service si trova con 4 punti, una vittoria, un pareggio e tre sconfitte e mai come ora la società chiede il supporto del suo pubblico per sostenere la squadra verso un'imminente reazione. Sin da subito, sin da venerdì alle 20 e 30 al Palafiera. Da l'Ital Service Calcio a 5 all'Ital Service Loreto Basket. Impegno casalingo infatti anche per la società gemella di Coach Foglietti, reduce dalla netta vittoria 53 a 99 a Osimo. Sabato 5 novembre alle ore 18 l'Ital Service Loreto Basket sarà di scena a Bahia Flaminia contro la Robur Falconara. Loreto è reduce da un galvanizzante filotto di 4 vittorie su 4 ed è seconda in classifica nel girone Marche-Umbria della Serie C Silver. Davanti c'è solo Recanati ma con una partita giocata in più per 5 vittorie su altrettanti match disputati.